Il titolo in latino laudes e l'anafora di laudato rimandano invece a un genere di poesia religiosa involgare ampiamente diffusa nel medioevo. È il genere della lauda, il termine che deriva dal latino laus laudis, lode, indica un componimento poetico e musicale involgare di argomento religioso e di origine popolare che veniva cantato dai fedeli durante le celebrazioni liturgiche e durante le processioni. Esso conobbe una lunga tradizione anonima e orale. Ma qual è l'origine di tale genere? La lauda è un genere nato nel contesto dei riti liturgici, in particolare essa trae origine dai cosiddetti pianti, ossia da quelle lamentazioni della Madonna e delle pie donne per la morte di Cristo che venivano cantate dalle donne di chiesa che assistevano al rito. Anche se legate in origine alla rievocazione liturgica della passione di Cristo, essa ha poi conosciuto uno sviluppo autonomo. I contenuti della lauda riguardavano infatti i più diversi aspetti della fede e della devozione religiosa. Grazie a tutti.